Un cordiale saluto da Andrea Viagioni di Firenze Smart per gli aggiornamenti sulla viabilità in Toscana. Traffico che per il momento scorre regolare su tutta la rete stradale e autostradale della regione. Sulla Uno panoramica si ricorda che a causa di lavori fino al 28 febbraio rimarrà chiuso il tratto tra aglio e roncobilaccio in direzione Bologna. E proprio sulle tratte appenniniche della Uno si consiglia prudenza a causa della nebbia a banchi che sta limitando la visibilità. Passiamo sulla FIPI lì anche qui fino al 28 febbraio sul ramo di Livorno per lavori al viadotto Stagno, restringimenti di carreggiata in entrambe le direzioni all'altezza del chilometro 76 e 400, restringimenti di carreggiata per lavori di manutenzione ai viadotti anche sul raccordo Sena Firenze tra San Casciano e Firenze in Pruneta in entrambe le direzioni. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Del viaggio! Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze